Noi riuscimmo a bloccare un progetto autorizzato in maniera illegittima dal Comune di Pescara per tre edifici e non alberghi, siamo chiari, che andavano sulla riviera di Porta Nuova nelle aree immediatamente adiacenti all'ex Cofa. Il Tarci dette ragione e disse che il decreto sviluppo e la legge regionale fatta dal centro-destra ma scritto dai palazzinari pescaresi non si poteva applicare. A dicembre alla chitichella è stato inserito tra le centinaia di commi della legge di stabilità finanziaria un comma di interpretazione autentica di quella norma che invece viene evidentemente in soccorso della società privata che deve costruire quell'intervento perché dice che si applica anche ai piani particolareggiati e quindi sostanzialmente i costruttori fanno quello che gli pare. La relatrice al Senato di questo provvedimento era la senatrice di Pescara Federica Chiavaroli. Sanno benissimo di aver fatto una cosa indecente perché per sei mesi non ce l'hanno detta, l'hanno tenuta nascosta, non l'hanno vantata e l'ha dovuta scoprire un partito che in questo momento extraparlamentare come rifondazione comunista. Una interpretazione ancora più berlusconiana della norma di Berlusconi perché la norma di Berlusconi non prevedeva che non esistessero più piani regolatori e piani particolareggiati. Una vergogna e un crimine contro la città dopo la caserma fatta realizzare sulla riviera di Porta Nuova. Grazie. 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 Grazie.